E alla fine è arrivata la decisione che nessuno forse più si aspettava. Il sindaco Carlo Savemini ha scelto di chiudere al pubblico l'area mercatale di Sette L'Acquare fino al prossimo 15 novembre ai sensi dell'articolo 50 del Tutel. L'ordinanza firmata nel corso della mattinata si è resa indispensabile dopo il secondo screening di controllo mediante l'esame con tampone molecolare eseguito dal Dipartimento di Igiene e Salute del territorio leccese al quale sono stati sottoposti tutti gli operatori. Lo screening ha certificato la presenza di tre nuovi casi di Covid seppur asintomatici. A tutti gli operatori si sta procedendo nel corso di queste ore alla notifica con avviso di possibilità di ritiro della merce deperibile nel corso della giornata di lunedì. Il sindaco afferma attraverso una nota per ragioni di tutela della salute pubblica si considera necessario scongiurare un possibile focolaio dell'infezione Covid. Una decisione delicata e sofferta ma inevitabile. Il commento del primo cittadino non sfuggirà a nessuno, continua Salvemini, che tutela e la salute di chi lavora e frequenta il mercato si accompagna alla forzata sospensione delle attività economiche che impattano sulla vita delle famiglie. A tutti loro in questo momento va il primo pensiero solidale di vicinanza. L'augurio di tutti è naturalmente di poter riaprire appena avremo il via libera. Da parte dell'ASL si conclude in questo modo una scelta legata alla sicurezza e alla tutela della salute del popolo leccese.